Sì, sono le gozze di ieri sera Sì, guarda, dove stanno le cose? Questa è per lui? Se non ci vedi, ci vedi? Ecco, guarda. Le scarpe levate dentro. Buongiorno. Come ti chiami? Ciao Claudio. Che ci fai qua? Eh, sono venuto a provare, emozioni, quello che non ho fatto da ragazzo. Uno fa il paracadutista, ma un vecchiaio. Quindi ora ci fai un bel tango. Io sono Francesco, dottorito, a me cinque. Mi raccomando, sorridi e guarda a me, perché se guardi sotto ti faccio la ripresa della testa. Certo, certo. E divertite. Grazie. Ciao a dopo. No, no, quell'altro. Ricordate che papà ti ha sempre voluto bene quello che trovi secondo me. Che me lasci? Eh, quello che tu vedi tu. Poi parla con il Daniele. Ah, io l'ho detto a pagare. Oh, scusa, eh. E il moto ancora c'è. Io tanto faccio un scaricaterra. Io e me, a chi le lascio? A me, a me. Grazie, va, grazie. Eh, grazie, grazie. Oh, bello, sorridete. Mica stai ad andare a un funerale. Su, dai. E fa tardi. Beh. Hai capito, sì. Mamma mia che paura. Mamma mia come sto. Dai, su. Manda alle cianche. Che andiamo a divertire. Dai, 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 dai. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Qui è la fase thin? Ti� mai. Tri normale. Noi. Li pacipi di cosa, una. Dai, dai, dai. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì. Sì.